Da Rezzo vogliamo lanciare una richiesta di sinergia da parte del Consorzio 2 Alto Valdarno, alle associazioni agricole di categoria, ma in particolare alla Regione Toscana, perché si riesca a recepire tutti quei fondi che dall'Europa, passando per il Governo nazionale, possano arrivare nel nostro territorio e possano rispondere alle esigenze vere delle nostre aziende. Ciò che viene siglato attraverso il Consorzio di Bonifica, presieduto da Serena Stefani, e le organizzazioni di categoria, è il modo per rendere sinergico fra gli agricoltori e le istituzioni un patto che generi progettazione e quindi possibilità di acquisizione dall'Unione Europea di investimenti. Abbiamo messo in campo la passione, la grande concretezza del sistema dei Consorzi di Bonifica e di questo Consorzio di Bonifica, appunto guidato dalla Stefania D'Alesi, con una istituzione rappresentata dal suo Presidente Gianni, che non solo ha apprezzato questa concretezza, ma come noi l'ha collocata direttamente A, nel Recovery Fund, B, nella sfida di futuro originale e distintivo di questa Regione, non solo alle altre Regioni, ma tutto il resto del mondo. E questo credo che debba rendere chi esercita il mio ruolo estremamente davvero orgoglioso di questa giornata. Io ritengo che abbiamo qualche elemento in più degli altri Paesi europei per affrontarla a testa alta, ci vuole un po' di coraggio e ci vuole un grandissimo gioco di squadra fra governo, regioni, imprese agricole e mondo della ricerca. Se lavoriamo bene assieme questa può essere una grande occasione, l'Italia può essere il Paese guida in Europa per costruire un sistema agroalimentare equo, redditizio per gli agricoltori e maggiormente sostenibile. Grazie. 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 Grazie.